Dai, dai, curami, curami, stai attento o trovi sulla sinistra? No, no, stai attento, stai attento! Aspetta un attimo, offline. Eccomi, eccomi, legge la palla di fuoco, legge la palla di fuoco! Mamma, ho bisogno di aiuto. Sì, sì, lo so che sei pieno di sotto. Senti, la carta igienica devo usare la prima o dopo aver fatto. Mamma? Mamma? Pronto? Ottimo! Buono! Buono! Questo è bello, questo è bello! Senti, senti, senti questo! No, 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 no! Sempre caro mi fu quest'ermo a colla e questa siete, che da tanta parte... No, mi fa proprio cagare! No, no, aspetta, va bene. Dell'ultimo orizzonte il quarto esplode. Ma se... Sì, con questo prenderò un sacco di mi piace! 13 14 56 180 π1000 7 quarti 7 nani Simbolo di Batman! Ma siccome te ne sono frutta, il ketchup è marmellata! Sì! 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 Sì!